Mi passi la battuta, oggi siete qui con questo banchetto, ma è un banchetto abusivo questo? Assolutamente no, noi abbiamo tutte le certificazioni e le autorizzazioni, noi siamo qui però per spiegare i cittadini... No, no, non dal punto di vista del Comune, dal punto di vista del Movimento 5 Stelle? Assolutamente no, non capisco come mai questa domanda, perché comunque... Hai visto qualche polemica che c'è stata qualche giorno fa, qualcuno che dice che lei non rappresenta i 5 Stelle? Diciamo che queste polemiche sono ovviamente dettate da chi evidentemente è stato deluso da un risultato elettorale, noi invece siamo qui quest'oggi a parlare di contenuti, noi non interessano le polemiche, non interessano tutti i fatti personali di alcuni attivisti. In Piazza Martiri c'è questo gazebo dei 5 Stelle, qualche metro più in là c'è un banchetto dei 5 Stelle, verrebbe da dire questo è quello dei 5 Stelle ricchi oppure qual è quello vero? Beh, i banchetti dei 5 Stelle ne potrebbero essere anche 4 o 5, i banchetti dei 5 Stelle sono banchetti dei cittadini, per cui non vedo se ce ne sono uno o due, speriamo che ce ne siano ancora di più. E allora perché non ne fate uno unico magari? Perché si potrebbe arrivare all'unità, non si sa mai. Non eravate uniti una volta? Sì, eravamo uniti, ma poi politicamente si può anche purtroppo cambiare. E qual è quello vero dei due? O sono tutti e due veri? No, sono tutti e due veri. Il problema è capire cosa vogliamo fare di questa città. In questo momento al Comune di Teramo il Movimento 5 Stelle quanti consiglieri ha? Adesso attualmente sono da solo, sono l'unico consigliere 5 Stelle che proprio nello scorso Consiglio Comunale è riuscito a mettere in difficoltà l'intera maggioranza. Secondo noi non ce n'è nessuno, anche perché dal 29 di ottobre Berardini è stato spiducciato. Poi nella vita ci si può ricredere, ma questi sono i fatti attualmente.